Io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale Allora facciamo la prima plancia, posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia Allora tiro su gli abdominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio avvicinando proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdome e lo proviamo a tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, continuate a tenere questa posizione andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli abdominali belli, tesi, 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 ok ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, and relax ottimo, passiamo al prossimo esercizio mettetevi subito in posizione per la plancia laterale invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok da sotto una torsione in avanti, in avanti, tiro, abdominali tesi una bella torsione, in avanti, ancora, tiro in avanti, ah sì ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete le minuti che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare ok, ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti ok, continui, vai 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 vai, abdominali tesi, senti il lavoro sulla plancia ci mancano ancora, 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, appreso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima 3, 2, 1, cambiamo esercizio andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, un minuto da adesso portando in avanti il fianco interiore, ok, porto in avanti, porto in avanti, ok e la cosa importante quando lavori all'abdominale è di dare il meno recupero possibile, ok l'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok, a arrivare chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome, sta dicendo frottole perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok, ovvio anche l'alimentazione incide ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rasoda, ok, mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, dai, dai dai, 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 spingo in avanti, spingo in avanti, tira, tira, ultime dieci secondi, vai, 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 dieci ancora e le ultime cinque, quattro, tre, due, uno and relax, passiamo sul prossimo esercizio l'altra cosa bella delle plance, sai qual è? è che possiamo, ok, in posizione, cominciamo dondolare di assi sinistra, ok, piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio l'intensità dell'esercizio e vai, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari ok, e carico, che permette probabilmente avere piccoli micro ricuperi durante l'allenamento e questo ti permette di fare di più facendo di più avremo più risultati, ok, ancora 30 secondi continuiamo, proprio a un dondolo, destra sinistra e destra sinistra continuate, vai, 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 abdominali a go go e vedrete che anche quando facciamo tante plance l'altro beneficio di fare tutte queste plance è che ti aiuti la schiena più che altro ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale aiutandoti a evitare piccole mal di schiena continuiamo ancora 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio altra variazione sulle plance, adesso facciamo con le braccia tese ok, braccia tese, di nuovo un minuto questo punto quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra tra le mani e i piedi sollevo e porto la gamba destra in avanti portate le gambe destra in avanti proprio tira dentro l'abdome con tutti voi stesse ok, e faremo 30 secondi per gamba ok, 30 secondi per gamba ci manca ancora 5 e 4 e 3 2 e cambia la gamba in avanti, sollevo tira su come se stessi provando di portare il ginocchio fino al tetto addominali tesi sorridete perché state facendo un bel lavoro trattieni la posizione ci mancano ancora 10 secondi vai 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 10 secondi ci mancano 5 secondi solleva trattieni l'abdome tieni la posizione ok appoggia e passiamo al prossimo esercizio eccellente in yoga si chiama boat pose allora sollevo le gambe da terra e noi dobbiamo provare per trattenere la posizione ok tengo su e scendo giù abdominali tesi e su e scendo giù e su e scendo giù se le volete rendere ancora più difficili potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino e in questo momento ho una superficie non tutta omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio che è eccellente che vuol dire attivo più fibromuscolari e scendo giù e scendo giù continuiamo su e giù il abdominali più tese possibile su e giù ancora due volte e giù e ultima e scendi eccellente eccellente andiamo sul prossimo esercizio eccellente eccellente segni eccellente eccellente eccellente